Ancora minaccia ad avvelenare il clima politico in città. Dopo l'onorevole Stefanazzi e l'assessore regionale dell'Inoci, a finire nel mirino è l'ex assessore dell'Aggiunta Salvemini, Fabiana Cicirillo. Anche per lei una lettera anonima dai toni intimidatori. Episodi gravissimi, condannati da tutti gli esponenti politici. E nelle scorse ore il sindaco di Lecce, Adriana Polibortone, ha chiesto al prefetto Luca Rotondi la convocazione d'urgenza del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza per discutere di quanto accaduto e prendere i necessari provvedimenti. L'ho chiesto stamattina perché questa sorta di stilicidio quotidiano credo che vada affrontato immediatamente con fermezza perché veramente ci sono delle stranezze che accadono dopo una campagna elettorale. Se c'è qualcuno che pensa di voler mettere disordine in città credo che abbia proprio sbagliato indirizzo. Vanno individuate immediatamente queste strane persone che non si capisce a che titolo stiano facendo questi atti veramente inconsulti. Non si sono mai visti atti del genere nella nostra città. La nostra città è tranquilla e deve continuare ad essere tranquilla, democratica, rispettosa dei diritti di tutti quanti. Questa è la cosa alla quale tengo assolutamente. Un clima di veleni e minacce che continua a persistere e che non si era mai respirato in città, come ha sottolineato Adriana Polibortone. Non capisco perché non ci debba essere un clima di serenità. Le elezioni sono un fatto democratico. Si vince o si perde per un solo voto. Ma questo non significa che i numeri debbano condizionare la serenità di una città. La città si è espressa come ha ritenuto di doversi esprimere, bene affatto, perché io rispetto le libere idee di ciascuno, che debbono essere comunque garantite, soprattutto garantite da chi ha la responsabilità di essere il primo cittadino della città. E siccome io voglio essere il primo cittadino di tutta la città, ho il dovere di garantire tutti quanti, ed è quello che sto facendo.